Siete benvenuti qui all'interno della nostra vetrina televisiva, benvenuti nel mondo dei motori dove grande protagonista è il gruppo Progetto e il suo amministratore Roberto Terranova, benvenuto sui nostri schermi. Grazie Stefania, un bel ritrovato a tutti quanti voi amici. Bene, un piacere per noi e anche per i nostri telespettatori essere accolti da te personalmente, da tutto lo staff, i collaboratori del gruppo Progetto. Noi siamo a due passi dal centro città, zona facilmente raggiungibile, Corso Unione Sovietica, ma il gruppo Progetto vi mette a disposizione tanti punti vendita, tutte concessionarie ufficiali, le ricordiamo? Certo, siamo presenti a Carmagnola in via Poirino numero 6, a Rivarolo Canavese in Corso Torino 186. Sono sedi storiche che sono lì da oltre 30 anni. In più abbiamo una sede dislocata in Liguria. Bene, approfittatene assolutamente, avete diritto a tutta la solidità, alla tradizione ed esperienza, al meglio della produzione. Non per nulla noi siamo circondati già dalle ultimissime novità. Molto attesa, piace a tutti, ai giovani, a chi si sente giovani, a chi ama distinguersi. Era difficile migliorare un progetto di grande successo come la 500, la 500X, di Aumented Beauty, di Aumented Sub. Pienamente d'accordo con te, effettivamente il restyling che è stato fatto è stato azzeccato, quindi aggiornare praticamente già una bellezza diventa difficile, ma FCA ci è riuscita come sempre. Soprattutto l'aggiornamento che è stato fatto riguarda la parte tecnica e le motorizzazioni, tanto è vero che sono disponibili due motori nuovi benzina turbo, un 1000 da 120 cavalli e un 1300 sempre turbo da 150 cavalli, quindi motori rivoluzionali. Bene, volete concedervla? Ci ha pensato il gruppo Progetto. Opportunità d'acquisto su tutta la gamma, anche sulla 500X? Certo, promozioni uniche ed esclusive, quindi veniteci a trovare perché come dico sempre Progetto ci mette del suo. Ricordo anche che siamo in promozione con le tipo, pensate che potrete avere tipo, al prezzo inferiore del benzina, quindi Fiat Tipo nuova può essere vostra a partire da 12.950, ma vi dirò di più, con il fatto che Progetto ci mette del suo, per noi tutte le vetture a gasolio hanno lo stesso prezzo del benzina o addirittura meno, quindi per quanto riguarda la 500L, la Tipo, la 500X, 500P, la Panda, quindi veniteci a trovare perché comunque potrete portare via il gasolio, quindi il famoso Multijet della Fiat ha un prezzo veramente basso. Grazie Progetto, ma dico di più, voglio metterti alla prova, ti cedo il microfono perché sono di scena. Le grandi opportunità commerciali e aziendali, chilometri zero, vetture d'occasione, firmate Gruppo Progetto. Parliamo di chilometri zero con sconti che vanno fino al 40%, ma un 40% vero. Vediamo una fantastica Tipo, 1.3 Multijet, 95 cavalli gasolio, vettura che di listino sfiora i 22.000 euro, qui la potrete portare via a 13.400 euro, quindi ribadisco, venite qua, guardate questa vettura, staccate l'assegno di 13.400 euro e la portate via, quindi un risparmio che va al 40%. Fiat 124 1.4 Turbo allestimento lusso, vettura che di listino sfiora i 34.000 euro, la potrete portare via a 26.900 euro, chilometri zero, quindi nuova. Tipo Station Vagon, pensate, questa versione, proprio questa qua, vi do eventualmente il numero di targa, pensate, 1.6 Multijet, 120 cavalli allestimento Lange, vettura che di listino fa 25.000 euro, la potrete portare via a 16.900 euro, ripeto, ne è rimasta una con un prezzo che va oltre il 40%, perché risparmiate 9.000 euro su 26.000 euro che il listino, quindi 16.900 euro, potrete portare via questa fantastica Tipo, 1.6 Multijet, 120 cavalli allestimento Lange, chilometri zero. 500, 1.2 benzina o 1.3 Multijet, a partire da 10.900 euro, chilometri zero. Panda, chilometri zero, ufficiale Fiat 1.2, 69 cavalli, easy, euro 6, pensate, la nostra richiesta, chilometri zero, 8.900 euro contro un listino di oltre 12.500 euro, la potrete portare via a 8.900 euro. Fiat 500 X, 1.3 Multijet, 95 cavalli, popstar, vettura che di listino sfiori 23.000 euro, qui al gruppo progetto sarà vostra a 13.900 euro, ripeto, 13.900 euro Fiat 500 X, 1.3 Multijet, chilometri zero. Lancia Y, chilometri zero, a partire da 9.400 euro. Mito 1.3 Multijet, 95 cavalli, allestimento super piuttosto che urban, sarà vostra, chilometri zero, a 12.900 euro. Fiat 16, 1.6 benzina, GPL, pensate a pochissimi chilometri, 12 mesi di garanzia, la nostra richiesta 7.900 euro. Toyota RAV4, quattro ruote motrici, allestimento Lange del 2012, pochissimi chilometri, la nostra richiesta 10.900 euro. Volvo V50, 2.000 turbodiesel, un mulo come automobile, quindi indistruttibili, la nostra richiesta praticamente 8.900 euro. BMW 320, futura sport, 184 cavalli, full, full optional, la nostra richiesta pensate 16.900 euro. Fiat 500 L, 1.3 Multijet, popstar, anch'essa con il 40% di sconto, pensate la potrete portare via, chilometri zero, a 13.900 euro. Tutto quello che vi ho fatto vedere è solo una piccola parte di quello che dispone il gruppo progetto. Siamo specializzati nelle chilometri zero, quindi veniteci a trovare perché ne abbiamo tante. Abbiamo vetture aziendali, abbiamo veicoli per il lavoro, quindi veicoli commerciali, abbiamo di tutto e di più, quindi nella nostra vasta esposizione di Corso Unione Sovietica 141, quindi veramente vi aspetto a presto in Corso Unione Sovietica 141. Metteteci alla prova.